Buongiorno a tutti, sono Massimo Garavini, sono un istruttore federale, sono un giudice, sono anche allenatore galoppo professionista, questa è mia moglie Michelle, anche lei istruttrice e insieme gestiamo l'attività della British World Society, che probabilmente è il più grande ente formativo in ambito equestre al mondo, gestiamo qua in Italia la formazione di giovani istruttori, di candidati istruttori. Quelli con la maglietta blu sono i candidati istruttori, quelli con la maglietta professional invece sono già istruttori di secondo livello che hanno con noi ottenuto il titolo, è un titolo molto prestigioso, molto importante, è un titolo riconosciuto da 37 federazioni in tutto il mondo. Oggi siamo qua alle Garzide in provincia di Crema e affronteremo con la collaborazione di Classos TV un ciclo di lezioni dove presenteremo un pochettino i programmi della British World Society e vedremo un pochettino qual è il senso, qual è la filosofia di questa formazione che è leggermente diversa a quella a cui siamo abituati in Italia e faremo insieme ai ragazzi un percorso seguendoli nella loro formazione e poi seguendoli agli esami lungo questo iter formativo che noi condividiamo con grande entusiasmo anche con voi.